più chiara l'avremo ma adesso seguiamo Paolo Paolo Paini con la sua ottava meraviglia di Cassan Giorgio la sua cavalla undicenne, cavalla italiana da For Pleasure per Caletto I controlla bene adesso l'oxer, la pressione supera il numero 6 la triplice, 4, 5, 6 tempi e l'aiuto per l'uscita, perfetto e adesso in avanti per la riviera, il tempo è buono, forza Paolo tempi l'errore anteriore sulla prima variea dell'oxer della combinazione l'ultimo salto, la chiusura, ancora un errore, calata un po' su questo salto finale dietro front